Eccoci qua. Buon pomeriggio a tutto il mondo. Questa è una diretta estemporanea per i colleghi parrucchieri. Nel post abbiamo l'indirizzo del Concept Academy. Alle 6 inizierò una videoconferenza solo con parrucchieri. Chi si vorrebbe iscrivere in questo momento? Ci sono tre domande per entrare nel gruppo. Quando chiederete per entrare nel gruppo, basta che rispondete, entrerete nel gruppo Concept Academy dove parleremo prettamente di cose tecniche del parrucchiere, quello che sta succedendo, eccetera. E tutta la formazione che Concept Academy sta iniziando con formazione online. Dentro la piattaforma privata solamente per parrucchieri troverete il link di questa conferenza che inizierà alle 6. Adesso sono le 17.41, ci sono 20 minuti che potete rispondere alle tre domande, iscriverti e poi parlare direttamente con i parrucchieri del gruppo. In questo momento nel gruppo ci sono otto persone. Io spero che sabato è una giornata estiva. La parrucchieria non è che farà tardissimo, anche perché gli orari già sono cambiati. Già abbiamo iniziato a cambiare un pochino, a rallentare il sabato. Vi aspetto. Iscrivetevi a Concept Academy, un messaggio per parrucchieri. Adesso questa è la prima diretta che andrà alle 6 in punto. Sono le 17.42, però anche se vi sfugge questa conferenza privata solo per parrucchieri, iscrivetevi che ce ne saranno veramente tante, ma ci saranno un sacco di novità con ospiti di eccezione, corsi incredibili. Vi aspetto tra poco nell'aula Concept Academy. Ragazzi, ciao.